Per non interrompere il corso degli avvenimenti che seguirono in casa Grandet, occorre accennare fin d'ora alle operazioni compiute dal vecchio mediante l'opera di Degrassin. Un mese dopo la partenza del banchiere, egli possedeva una iscrizione di 100.000 lire di rendita, comprata a 80 franchi netti, ma nel formarsi l'inventario all'epoca della sua morte non si poteva affatto scoprire in che modo l'acquisto fosse avvenuto. Il notaio pensò che l'inconscio strumento dello scambio di fondi fosse stata Nanon, anche perché intorno a quel tempo ella rimase fuori cinque giorni con il pretesto di recarsi a regolare alcune faccende afroafond, falso pretesto senza dubbio, non essendo nelle abitudini del vecchio l'incaricare alcuno delle cose sue. Quanto agli affari della ditta Guillaume Grandet, tutto andò secondo le previsioni. Come è noto, esistono sempre alla Banca di Francia informazioni esattissime sulle grandi ricchezze di Parigi e sulle province, e i nomi di Degrassin e di Feli Grandet e di Saumur vi godevano la stima che si accorda alla nobiltà della finanza, sostenute da immense proprietà immobiliari libere di ipoteche. Bastò quindi la voce che il banchiere di Saumur avrebbe liquidato il passivo di Grandet di Parigi perché tutti si astenessero dai protesti. In presenza degli interessati si tolsero i sigilli e il notaio della famiglia cominciò subito un regolare inventario. Poi il Degrassin convocò i creditori e dall'unanimità fu eletto liquidatore insieme con François Keller, capo di una ditta importantissima e impegnata per una forte somma. Le transazioni divennero facili per la speranza che destava il credito di Grandet e di Saumur e nessuno si oppose o pensò di passare al conto profitti e perdite le obbligazioni nell'attesa del pagamento. Trascorsero intanto sei mesi e i parigini avevano estinto le cambiali e le conservavano nel portafoglio, ciò che voleva specialmente il bottaio. Dopo tre altri mesi i liquidatori distribuirono il 47% che si era ricavato dalla vendita scrupolosa dei beni e dei valori di ogni specie appartenenti al FU Guillaume Grandet. Si riconobbe ampiamente la probità della liquidazione e si fecero le più alte lodi dell'onore dei Grandet. Poi si aspettò il resto del denaro, infine spedirono a Saumur una lettera collettiva. Ci siamo, disse il vecchio nel bruciarla, ma dovrete aver pazienza, cari miei. Ed in risposta alle domande che gli rivolgevano chiese il deposito presso il notaio di tutti i titoli di credito contro il defunto fratello, insieme alle quietanze dei pagamenti fatti allo scopo di verificare i conti e stabilire con esattezza lo stato della successione. Quella richiesta sollevò un vespaio, già che, d'ordinario, il creditore è una specie di maniaco. Pronto oggi a transigere, giura domani di mandar tutto a ferro e fuoco e poi torna a calmarsi. Un giorno che sua moglie è di buon umore, il bimbo ha messo bene i denti o tutto va bene in casa, parla di non voler perdere un soldo, mentre il giorno seguente, costretto a contemplare la pioggia dietro ai cristalli della finestra, diventa malinconico e palesa a chiunque la sua intenzione di definirla fare ad ogni modo. 24 ore dopo, invece, pretende delle garanzie e a fine mese è addirittura risoluto all'esecuzione il carnefice. Rassomiglia allo svelto passerotto sulla coda del quale si dice ai bambini di andare a deporre un granello di sale, ma il creditore questa similitudine la ritorce contro il credito, da cui nulla può ricavare. Grandè, che aveva studiato con cura le variazioni atmosferiche della massa aspettante, vide riuscire i suoi calcoli a meraviglia. Alcuni si arrabbiarono e rifiutarono decisamente di fare deposito, così si fregava le mani per l'allegrezza. Altri aderirono a condizione di non rinunciare al menomo loro diritto, compreso quello di promuovere, se del caso la dichiarazione di fallimento. Vi fu un nuovo scambio di lettere, ed alla fine il vecchio bottaio consentì alle proposte riserve, sicché i creditori più benevoli, in seguito a tale concessione, persuasero anche i più caparbi. Si fece il deposito, e non mancò chi si permise di osservare a Degrassin che il suo amico pareva che si burlasse di loro, si perdettero così 23 mesi, e molti commercianti distratti nel moto vertiginoso degli affari dimenticarono quel che avevano da recuperare contro l'eredità di Guillaume, o se ne rammentarono per concludere entro di loro che tutto sarebbe finito con la percentuale ricevuta. E il Vignarolo infatti contava assai sulla forza del tempo che, secondo lui, era un buon diavolo. Sul termine del terzo anno, Degrassin scrisse a Grandet che i creditori si sarebbero accontentati del 10% sul residuo debito di 2 milioni e 400 mila franchi, e questi rispose che vivevano tuttora il notaio e la gente di cambio, il cui fallimento aveva prodotto la rovina e la morte del fratello, che forse erano ridiventati solvibili, e si doveva quindi agire contro di loro per trarne quanto più fosse possibile a diminuzione del deficit. Trascorse un altro anno e si propose di ridurre il passivo a metà. Durarono un semestre le trattative fra liquidatori e creditori, e fra Grandet e liquidatori, ed alla fine, verso il nono mese, egli fece sapere che suo nipote si era arricchito nelle Indie e aveva scritto di voler pagare integralmente i debiti del padre, che perciò non credeva di assumere la responsabilità di quell'accordo senza speciale autorizzazione di cui era in attesa. In tal modo, verso la metà del quinto anno, erano ancora tenuti in iscacco con la parola integralmente di quando in quando lanciata dal sublime bottaio che se la rideva sotto i baffi, d'un sottile riso di ironia dicendo «Quei parigini!» ma, a ben altra sorte, essi erano destinati ad affatto nuova negli annali del commercio. Papà Grandet intanto vendette a 115 la sua rendita e ritirò quasi 2 milioni e 400 mila franchi in oro, che andarono a raggiungere nei barilotti i 600 mila franchi di interessi composti avuti dalle cartelle. De Grasset aveva preso di mora a Parigi, prima perché eletto deputato, poi perché, sebbene padre di famiglia, era stanco della noiosa vita di Saumur e volle cercare un diversivo con una graziosissima attrice, certa Florin. Inutile dire come tale condotta fosse giudicata altamente immorale nella città. Sua moglie, che fortunatamente era separata di beni e abbastanza intelligente, poteva condurre col suo nome l'esercizio della banca e riparare i danni prodotti dalle pazze spese di lui. Ma i crusciottiani seppero tanto approfittare della falsa posizione di quella donna quasi vedova, che egli immaritò molto male la figliuola e fu costretta a deporre ogni idea del matrimonio di Eugénie con Adolf. Questi si recò dal padre a Parigi e divenne, dicono, un pessimo soggetto. Così il trionfo rimase ai crusciò. Vostro marito ha perduto il buonsenso, diceva Grande, prestando con ipoteca una somma alla signora de Grasset. Vi compiango davvero, perché siete una brava donnetta. Ah, signore, e la rispose, chi avrebbe mai creduto che partendo di qui per la capitale corresse alla rovina? Mettestimone il cielo, signora, che fino all'ultimo aumento ho fatto di tutto per distornarlo. Il signor presidente voleva ad ogni costo andar lui, ed oggi è chiaro perché de Grasset ci tenesse tanto a quella gita. Con questa parola Grande dichiarava di non professargli obbligo.